La prima denuncia del 2011, dopodiché ci fu un blitz della forestale e delle forze dell'ordine e praticamente l'area fu messa sotto sequestro, successivamente dissequestrata, sono tornata su più volte. Nel 2015 ci sono tornata proprio per filmare la situazione e i ritorni che ho fatto lì sono stati anche altri 4-5. Nonostante denunce, chiamiamole bipartisan, perché arrivano sia dalla maggioranza come nel suo caso sia dalla minoranza, però per il momento la situazione è quella che abbiamo appena visto. La situazione è in stallo perché ci dicono che l'area è in mano a un curatore fallimentare, ci sono state varie aste, tutte andate di eserte, la prossima ci sarà il 15 marzo del 2022, partendo da una base di 230.400 euro, però la situazione è quella, io non so quanto convenga a chi compra pagare per poi dover affrontare cifre esorbitanti per la bonifica. L'idea a cui sto pensando in questi giorni è di parlarne con il sindaco, perché qualora il Tribunale non prendesse provvedimenti, il Tribunale di Grosseto, fare in modo con qualche ordinanza di obbligarli, perché lì è una bomba, è una bomba ecologica, le mie parole di qualche tempo fa siamo di fronte a una Chernobyl, è una situazione fatiscente, ci sono materiali inquinanti, materiali tossici, quindi in qualche modo qualcosa bisogna fare, perché non si può lasciare così una parte del nostro territorio che è un ricordo per tanti, perché la Fonte Mura è la nostra storia, come Poti, quindi lì va bonificato tutto. Il rischio lo abbiamo avuto sotto gli occhi proprio a Capodanno, è vero che i ragazzi non ci dovevano entrare, ma c'è un tetto pericolante, perché effettivamente ci sono strutture pericolanti, poteva esserci una tragedia. Sì, perché effettivamente sono strutture pericolanti, ci sono parti di tetto che stanno crollando, c'è amianto, Eternit, logicamente con la musica, le casse che c'erano, il rumore, quello poteva portare a dei crolli. Ora mi attiverò parlando con il sindaco per vedere quello che è possibile fare, perché la situazione non può andare assolutamente avanti così, però non si può mai aspettare sempre l'ultimo gradino, occorre sempre intervenire prima, perché nella struttura, se le persone ricordano bene, ci fu anche un incidente, perché un ragazzo cadde da un tetto e si fece anche male, quindi accedere a quella parte, a quell'area dismessa, può comportare dei rischi e pericoli a persone o anche a cose.